Puoi navigare sotto il comando di un pirata? O non puoi? Tortuga? Tortuga. In poche parole è in vero vitagrama a chi non abbia respirato a fondo il dolce, prolifero bouquet che c'è a Tortuga. Comprendi? Tu che ne dici? È persistente. Credi a me, amico, se ogni città del mondo fosse come questa, non ci sarebbe un uomo infelice per amore. Scarlett! Non so se lo meritavo. Gisè? Chi era quella? Chi? Questo forse lo meritavo.